I consiglieri regionali del PD, Cifarelli e Lacorazza, tornano a chiedere l'audizione dell'assessore Franconi in quarta commissione sul problema dei tetti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate. E lo fanno alla luce della confusione che si sta generando in queste ore sull'argomento dopo la convocazione da parte dei direttori generali delle due aziende sanitarie di Potenza e Matera delle associazioni di riferimento del mondo della sanità privata che hanno deciso di disertare l'incontro per discutere della bozza di delibera dell'aggiunta regionale relativa ai tetti di spesa. Una scelta che contribuisce ad invertire l'ordine naturale delle cose facendo abdicare la politica alla burocrazia, affermano Cifarelli e Lacorazza. A loro parere, invece, è la politica a doversi prendere carico dell'interesse dei cittadini attraverso il confronto nelle sedi a ciò deputate, vale a dire la quarta commissione consigliare ed il Consiglio regionale.